Riunione di emergenza del Consiglio per la Sicurezza Nazionale in Polonia, sotto la guida del Premier Mateusz Morawiecki, in seguito alla caduta di due missili o resti di missili a Psewodów, villaggio polacco ai confini con l'Ucraina. Secondo la stampa locale, gli ordignano colpito un finile e ucciso almeno due persone. Dal quartier generale del Pentagono a Darlington, in Virginia, dichiara il generale Pat Ryder, portavoce del Pentagono. Possiamo dirvi che al momento non abbiamo informazioni che confermino queste notizie e stiamo indagando ulteriormente, quindi quando avremo aggiornamenti da fornire non mancheremo di farlo. Secondo l'articolo 5 della Nato, qualsiasi attacco contro un paese dell'Alleanza Atlantica sarà considerato un attacco contro tutti. Ma la Polonia in primis deve stabilire cosa sia realmente accaduto. Potrebbe trattarsi di un missile russo, ma anche di un missile antiaereo ucraino o dei resti di un missile russo abbattuto dalla contraerea di Kiev. Mosca afferma che i rottami pubblicati dai media polacchi sulla scena dell'incidente non hanno alcuna relazione con le armi russe. La Russia non ha lanciato alcun attacco missilistico vicino alla frontiera ucraino-polacca, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo.